Ciao a tutti e benvenuti nel mio ultimo video qui su YouTube. Nel video di oggi voglio portarvi un esempio realmente accaduto qualche settimana fa ad un mio cliente dove è stato contattato dalla sua banca per investire i suoi risparmi in dei fondi di investimento. Infatti questo capita molto sovente, infatti quando la banca vede che abbiamo una certa liquidità nel nostro conto è molto probabile che vi chiami per investire appunto quella liquidità. Fino qua niente di male. Questo mio cliente però prima di investire in quei prodotti bancari ha deciso di richiedere una consulenza indipendente con me cosa che poi si è rivelata corretta nel suo caso. Nel video di oggi andremo a dire due paroline proprio sui fondi di investimento per avere un'idea un attimino un po' più chiara e andremo a visionare insieme proprio quei fondi proposti della banca. Allora come ben detto prima di tutto partiamo un attimino dai fondi. Cosa sono i fondi? I fondi comuni sono strumenti di investimento che raccolgono i soldi di tanti investitori per acquistare un portafoglio diversificato di azioni, obbligazioni o altri strumenti finanziari. Pensateli un po' come un grande salvadanaio in cui tante persone mettono i loro soldi. Un gestore di fondi appunto prende tutti questi e li investe per conto di tutti. Ci sono vari tipi di fondi comuni che investono in azioni, chiamati appunto fondi azionari, quelli che investono in obbligazioni, i fondi obbligazionari e quelli anche che combinano un po' di tutti e due, che vengono chiamati anche bilanciati. Ogni fondo ha appunto una strategia diversa e un obiettivo diverso. Adesso parliamo di una cosa molto importante ai fini di questo video, che sono appunto i costi. I costi e le performance. Iniziamo dai costi. I costi all'interno di un fondo possono essere un vero e proprio labirinto e spesso non sono subito evidenti. E naturalmente, in generale, le banche tendono a soffermarsi anche poco su questi punti. Vediamo insieme come sono strutturati, come possono influire sui vostri investimenti. Prima di tutto ci sono diversi tipi di costi che potrete incontrare. Commissione di gestione. Questa è una percentuale annua che il fondo ha debita per pagare il lavoro del gestore del fondo e il team di ricerca. Di solito varia appunto dall'1% al 3% del patrimonio investito. Anche se sembra una cifra piccola, nel lungo periodo può ridurre significativamente i risparmi e i rendimenti. Poi abbiamo le commissioni d'ingresso. Alcuni fondi addebitano una commissione quando si entra nel fondo, che può arrivare anche fino al 5% dell'importo investito. Anche se da dire che queste sono a discrezione della banca, quindi non è detto che vi vengano applicate. Questo significa che se, ad esempio, investiamo 1.000 euro, potreste dover pagare fino a 50 euro solo per entrare nel fondo. Immaginiamo, che ne so, un pack mensile dove versiamo 400 euro tutti i mesi, ecco noi pagheremo il 5% su tutte le entrate che faremo nel fondo. In più, similmente, abbiamo anche le commissioni di uscita, quindi dobbiamo pagare anche nel caso volessimo vendere appunto le quote del nostro fondo. Qualche fondo ha anche le commissioni di performance. Questa è la commissione aggiuntiva che il fondo può addebitare se supera un certo benchmark o obiettivo di performance. Può sembrare una buona idea, ma spesso i criteri di questo bonus sono fissati in modo tale che il gestore ha un incentivo a prendere i rischi maggiori, che potrebbero non essere nel vostro interesse. Questi alti costi, infatti, servono a remunerare proprio una lunga catena, che parte dal costo dei singoli strumenti, alle case di gestione che effettivamente creano i fondi, e alla distribuzione, quindi ad esempio alla banca e infine anche ai consulenti che vi vendono questi prodotti. In dieci anni questi costi possono erodere parte significativa del vostro investimento. Questo è il motivo per cui è fondamentale comprendere tutti i costi associati a un fondo comune prima di investirci. Però non voglio parlare solo dei costi, perché voi potreste benissimo dirmi che i costi non sono tutto, ed è anche vero. Se questi alti costi sono associati a risultati ottimi, allora perché no? Magari gli altri costi vanno proprio a remunerare questo valore aggiunto. E così, più o meno, vediamo subito molti fondi comuni, se non la maggior parte, non riescono a battere il mercato nel lungo periodo. Secondo le ricerche di Spiva, solo il 12% dei fondi riesce a battere il mercato oltre i 15 anni. Questo significa che, nonostante le promesse e le speranze, spesso non otterrete rendimenti migliori rispetto a un semplice investimento di un indice di mercato, come può essere ad esempio un ETF. Perché succede questo? Ci sono diversi ragioni. Costi elevati, come abbiamo visto prima, costi di gestione e quelli di ingresso, uscita, riducono significativamente i rendimenti. Anche se il fondo performa bene, questi costi possono erodere gran parte dei guadagni. Scelte di investimento è un altro punto. Ovviamente, battere il mercato non è semplice. I gestori di fondi comuni cercano di selezionare le migliorazioni e obbligazioni, ma non sempre ovviamente ci riescono, perché appunto è difficile. Il mercato è imprevedibile e anche i gestori più esperti possono commettere errori o non riuscire a prevedere direttamente i movimenti del mercato. Con questo non voglio dire che tutti i fondi attivi sono da buttare via. Certamente, come abbiamo detto prima, nel lungo periodo abbiamo una possibilità maggiore di ottenere rendimenti maggiori con un indice passivo, come può essere ad esempio un ETF. Ciò nonostante, comunque ci sono dei fondi nel mercato che performano anche molto bene e riescono magari a buttare anche nel mercato nel lungo periodo. Volevo terminare però con un punto che a molti sfugge. I consulenti di banca effettivamente sono più simili a venditori che a consulenti. Lo scopo finale della banca è di guadagnare, di fare utili. Quindi molto spesso gli obiettivi della banca possono non essere in linea con i vostri. Molto spesso infatti è anche presente un più o meno velato conflitto di interesse. Come abbiamo detto prima, le banche e i gestori di fondi guadagnano dalle commissioni che applicano. Questo crea un incentivo a vendere prodotti con commissioni più alte. Anche se non sono i migliori per gli investitori. Immaginiamo di avere due prodotti a parità di performance. Mettiamo ad esempio un ETF che segue il mercato americano e un fondo azionario americano. Sarò più inclino a vendere quello che mi remunera di più. Ma è normale questo. A volte però i consulenti finanziari ricevono anche bonus o incentivi per promuovere certi tipi di fondi. Aumentando il rischio che vi venga consigliato un prodotto dalla scarsa qualità. Per non parlare, perché spesso capita, alcuni fondi investono in prodotti o titoli della stessa banca o società di gestione. Questo, come capite bene, può portare a conflitti di interesse. Se la banca utilizza il fondo per sostenere altre parti del proprio business. I clienti che avete sono assolutamente... Fanculo i clienti. La tua unica responsabilità è mettere la carne in tavola. Regola numero uno. Spostare i soldi dalle tasche del tuo cliente e metterli nelle tue. Certo, ma se ne fai entrare un po' nelle tasche del tuo cliente è vantaggioso per tutti. Giusto? No. Ora, terminata un attimo questa parte, andiamo a vedere effettivamente i prodotti proposti dalla banca. In questo caso, il mio cliente, nome di fantasia, Mario Rossi, quindi non troppo creativo, aveva un patrimonio, anzi ha un patrimonio di circa 200.000 euro. E lì sono stati proposti tre fondi in particolare. Tutti e tre della stessa casa. Ok, i tre fondi che sono stati consigliati al mio cliente sono stati questi qua. Tutti e tre fanno parte di NEF Investment, L'Ethical Balance Dynamic R, US Equity R è Ethical Bond Euro R. Il mio cliente attualmente ha 34 anni, ha un capitale, come abbiamo detto prima, abbastanza importante, intorno ai 200.000 euro. Gli sono stati proposti questi tre fondi, tutti e tre ad accumulazione, con un rischio diverso. Vediamo un attimino, andiamo in ordine. Il primo è un fondo bilanciato, Dynamic in questo caso, quindi è una componente di azioni e obbligazioni. Il secondo investe principalmente, è un fondo azionario questo, quindi investe principalmente in azioni nel mercato statunitense. E l'ultimo è stato l'Ethical Bond, questo è un fondo invece obbligazionario e investe principalmente in obbligazioni europee. Allora, come abbiamo detto prima, partiamo dal Balance Dynamic. Vediamo che abbiamo due linee. La linea gialla, questa qua già all'arancia, adesso non riesco a vedere benissimo, è l'indice del comparto. L'indice invece, quello rappresentato dal blu, è il benchmark, è quindi l'indice che cerca di battere. In un anno vediamo che il nostro indice non ha affatto battuto il nostro benchmark. Diremo magari un anno molto sfortunato. Proviamo a vedere nei tre anni. Nei tre anni vediamo che non ce l'abbiamo fatta di nuovo. Proviamo allora a vedere a prendere un orizzonte temporale più lungo. Vediamo che all'inizio qua più o meno i due indici avevano la stessa performance. proviamo a prendere il fondo da dieci anni dal massimo. Vediamo che nel 2015 la differenza è ancora maggiore. Cioè questo fondo praticamente non è mai riuscito a battere il proprio benchmark. Mai. E come vedete qua c'è una differenza che è significativa. Andiamo a vedere quello che scrivono loro stessi all'interno del fondo. Vediamo che dall'anno, da gennaio appunto, dal primo gennaio, il fondo ha fatto un 1,58. Il benchmark un 4,36. In tre mesi ha fatto un meno, qua negativo, e il benchmark ha fatto un 0,38. Andiamo a vedere nei cinque anni. Nei cinque anni questo fondo ha fatto un 10% confronto a un benchmark che ha fatto un 16,29%. Quindi vediamo anche qua che il nostro fondo praticamente non ha battuto mai il nostro benchmark. E, coseno di poi, penso che neanche in futuro riuscirà a batterlo. Andiamo a vedere adesso un attimino i documenti. Volevo andare a vedere l'informazione chiave per gli investitori. Allora andiamo a vedere un attimino appunto gli obiettivi. L'obiettivo del comparto è conseguire un apprezzamento del capitale rispettando i principi ambientali, sociali e di governance, SG. Nel medio e lungo termine, attraverso un'allocazione attiva del rischio, principalmente in obbligazioni e azioni. Andiamo a vedere un attimino quali sono i rischi. In questo caso ha un rischio medio, come abbiamo detto prima, non bilanciato, quindi è un 3 su 7, siamo più o meno a metà. Andamento dei costi del tempo. Andiamo, vi leggiamo qua. Questo illustra come i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio mostra che se si liquida l'investimento al periodo di detenzione è raccomandato il rendimento medio anno previsto del 3,7 all'ordo delle spese e 1,6 al netto delle spese. Quindi già come vediamo qua, ci stanno dicendo che appunto il rendimento è obiettivamente affossato da quelli che sono i costi. Vediamo che su un esempio di 10.000 euro in caso di uscita dopo un anno i costi totali sono di 272. In caso di uscita dopo tre anni sono di 663. Quindi l'incidenza annua dei costi è di 2,7% o 2,1%. Quindi è un fondo abbastanza caro a mio parere. Più che altro è un fondo abbastanza caro per avere queste performance che le trovo davvero pessime, davvero pessime confrontate e paragonate al benchmark. Vediamo che il costo d'ingresso è dell'1%, quindi come abbiamo detto prima questi costi possono essere addebitati o no dalla vostra banca. Questo glielo dovete chiedere o comunque dovrebbe essere detto ma molto spesso non viene detto. Vediamo un costo di uscita, in questo caso 0%, non si paga nulla. Commissione di gestione e altri costi di amministrativi o di esercizio. Vediamo che in questo caso sono l'1,63%. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. Vediamo una costo di transazione invece del 0,09%. Vediamo qua invece commissioni oneri e accessori sostenuti in determinate condizioni. Commissione di gestione 0%, quindi in questo caso non ha commissioni di performance. E voglio dire meno male anche perché il benchmark non l'abbiamo praticamente mai battuto. Andiamo a vedere adesso questo fondo qua. Questo come ho detto prima è un fondo azionario e investe principalmente in aziende statunitensi. Allora vediamo che in un anno il fondo si è comportato abbastanza bene, comparato all'indice, perlomeno fino qua. Vediamo che nell'ultimo periodo comunque l'indice ha performato decisamente meglio. Proviamo a vedere nei tre anni. Ebbene, nei tre anni cominciamo a vedere qua un po' di differenza. Vediamo che attualmente appunto l'indice performa nettamente meglio rispetto a questo fondo. Anche qua proviamo ad andare a vedere nei dieci anni. Vediamo che nei dieci anni praticamente questo comparto non ha mai battuto il benchmark. E possiamo vedere come qua dal 2020 l'indice ha avuto performance che sono state nettamente maggiori. Nettamente maggiori rispetto al comparto. Andiamo a vedere un attimino le performance qua. Vediamo dall'anno, da gennaio, un 14,68% contro il benchmark 18,36%. Nei sei mesi 14,68% 18,36% del benchmark. Vediamo qua nei cinque anni, nei cinque anni è assurda la differenza, 76,22% del fondo contro il 107,84% di questo fondo. Nei dieci anni, nei dieci anni non lo so perché, qua non l'hanno neanche inserita. Probabilmente volontariamente questo non lo so, però vediamo che la differenza è piuttosto evidente. Quindi come vediamo anche questo comparto qua ha rendimenti che sono pessimi. Allora vediamo, l'obiettivo del comparto è conseguire un rendimento totale principalmente attraverso la rivalutazione del capitale, nel secondo luogo mediante dividendi, investendo per lo più in titoli azionari di società con sede negli Stati Uniti. Sì, vuol dire tutto e vuol dire anche niente. Mi spiace che anche qua appunto non ci sia scritto che vogliono ottenere un extra performance rispetto all'indice, perché se no viene da chiedersi per chi devo pagare, in questo caso vediamo poi quando, per ottenere delle performance peggiori dell'indice, quando potrei investire nell'indice. Andiamo a vedere adesso l'indice annuale dei costi. Qua è uguale, quindi su 10.000 euro vediamo che dopo il caso di uscita, dopo un anno, si potrebbero pagare circa il 5%. 5%, non so se abbiamo sentito bene, ma 5%. In caso di uscita dopo 5 anni il 2,9%, e ricordo 2,9% per ottenere performance che sono state pessime. I costi d'ingresso appunto qua vediamo un 3%, in commissione di gestione appunto i costi amministrativi sono un 2,02%. Faccio notare che un ETF di buona qualità, anzi per non dire di ottima qualità, sul mercato americano possiamo prendere un MSHA US o comunque uno Standard Pro 500 che è molto simile, si può pagare uno 0,07% o 0,08%, quindi costi veramente infinitesimali rispetto a questo strumento per ottenere rendimenti che sono obiettivamente maggiori. Vediamo costi di uscita, anche qua non ce le sono. Costi di gestione e altri costi amministrativi 2,02%, costi di transazione 0,1%. Anche questo strumento non ha commissione di performance, anche perché di performance obiettivamente non se ne sono viste. È un fondo azionario, quindi un periodo di detenzione raccomandato è di circa 5 anni. Come abbiamo visto appunto questo strumento qua ha dei costi che sono veramente, veramente alti. Ma adesso finiamo appunto con l'ultimo fondo che, come potrete immaginare, si comporta analogamente agli altri due. Vediamo il rendimento, questo qua è un ethical bond euro, investe principalmente in obbligazioni europee. Chiamo prima un anno, un anno e anche qua non abbiamo battuto il nostro benchmark. Nei tre anni, e i tre anni siamo stati molto simili, non abbiamo battuto il benchmark ma possiamo dire di poco. Andiamo a vedere nei dieci anni, nei dieci anni anche qua la differenza è abissale. Purtroppo anche in questo caso qua il fondo non va a battere quello che è il benchmark. Andiamo a vedere adesso un attimino appunto le performance. Da gennaio tutti e due i fondi sono stati in negativo, dunque l'obbligazionario per via dei tassi ha sofferto parecchio. Andiamo a vedere in un anno, in un anno il fondo ha performato un 2,18 con un 3,63% dell'indice. Vediamo nei meno cinque anni un meno 14,35 con un meno 10,83%. Vediamo anche qua nei dieci anni, bellissimo nei dieci anni perché il fondo ha performato un meno 7,86%. Quindi nei dieci anni noi mantenendo i nostri soldi su questo fondo avremo perso un 7,8% contro un benchmark che ci avrebbe fatto guadagnare quasi un 4%. Non sono tanti ma appunto come abbiamo detto prima è un fondo obbligazionario. Lo scopo qua non è di farci guadagnare tanto, non è un fondo azionario, però vediamo che appunto qua dei rendimenti seppur miseri li abbiamo avuti. Qua invece abbiamo una perdita che è quasi del 10%. Andiamo a vedere adesso quelli che sono i documenti, anche in questo caso qua andiamo a vedere l'informazione chiave per gli investitori. Allora l'obiettivo del comparto consiste nella rivalutazione del capitale attraverso l'investimento di due terzi del suo patrimonio in obbligazioni investment grade a medio e lungo termine, quindi un rischio buono, sui mercati finanziari dell'eurozona ed emessi da società o da governi nazionali europei. Profili del rischio 3 su 7. Andiamo a vedere un attimino adesso l'indice dei costi. Ovviamente qua i costi sono più bassi perché appunto è un indice obbligazionario, ma neanche poi di tanto. Vediamo che l'ingigenza annuale dei costi in caso di uscita dopo un anno viene segnalato un 2,1%, in caso di uscita dopo tre anni un 1,4%. I costi di ingresso, anche qua l'1%, in questo caso come vi ho detto prima non sappiamo se la banca li addebita, e un 1,08% all'anno di costi di gestione. I costi di transazione invece sono dello 0,03% e fa comunque riflettere che in caso, mettiamo in caso di uscita dopo quattro anni, dopo tre anni, noi abbiamo pagato mediamente l'1,4% tutti gli anni, e in questo fondo qua nei dieci anni avremo un rendimento che è stato negativo, del quasi meno 0,8%. Quindi noi qua siamo stati sicuri di aver pagato, ma siamo stati anche sicuri di praticamente aver ottenuto performance neanche nulle, ma negative. Questo fa molto riflettere, fa molto riflettere trovo perché si discute molto poco quando si va in banca, perché consulenti bancari tendono obiettivamente a far vedere molto poco questi dati. Sono per natura molto poco inclini a spiegarvi cos'è un benchmark, qual è l'indice dei costi, questi sono appunto tratti classici da quella che è la consulenza bancaria. Con questo ovviamente non voglio adesso dire che tutti i consulenti bancari lavorano in questi modi, oppure che tutti i fondi comuni di investimento siano pessimi. No, ci sono anche, seppur in maniera molto ristretta, alcuni fondi di case importanti che hanno ottenuto rendimenti e performance maggiori al benchmark. Questo è un discorso di modo appunto. Il cliente normale che va in banca non conosce appunto cos'è un benchmark, non conosce i costi, si fida appunto della persona che ha davanti e molto spesso, se non quasi sempre, vengono propinati questi fondi dalla bassissima qualità. Non a caso appunto quando ho fatto vedere questi dati al mio cliente che senza fare un'analisi veramente troppo approfondita di cosa appunto dentro il fondo basta veramente andare a vedere quello che è stato il benchmark e quello dei costi ed è palese appunto della differenza di qualità tra il benchmark e il fondo. Quindi come in questo caso qua il cliente ha fatto bene a richiedere una consulenza indipendente, ha ottenuto un suo portafoglio efficiente con strumenti efficienti che riescono appunto a fornire un valore nel tempo, tenendo appunto i costi più bassi possibile ad avere un portafoglio cucito su misura. Qual è appunto la differenza tra un consulente indipendente e un consulente di banca, un promotore bancario come venivano chiamati, che un consulente finanziario indipendente come me non ha interesse a vendere un fondo particolare o l'altro. Io non ho nessuna entrata nel vendere un fondo ad esempio di shares o di x tracker o magari di vendere un fondo comune di investimento. Quindi al centro della politica di un consulente finanziario indipendente c'è quello di fare l'interesse del proprio cliente e non l'interesse della propria banca di turno, assicurazione di turno o altre figure analoghe. Fatemi sapere comunque se anche voi siete andati in banca e vi hanno proposto appunto fondi comuni di investimento e quali. Il video di oggi termina qui. Fatemi come sempre sapere se vi è piaciuto il video con un like. Ci vediamo presto, un saluto a tutti e ciao! Ciao!